Una festa di compleanno che non si doveva fare, eppure questo festino privato, anzi privatissimo ma non autorizzato, un gruppo di giovani lo ricorderà per molto tempo. Multa di 400 euro per chi è arrivato a piedi e di ben 533 per chi invece si è mosso in auto. La salita delle cave di isola a Sesto Fiorentino sabato pomeriggio sembra un'autostrada e molti anche giovani si fermano e chiedono se la struttura che d'estate fa bar e cucina sia aperta, ma no. Un gruppo di 17 ragazzi tra i 17 e i 21 anni però non si è rassegnato e nella serata di venerdì ha pensato di ritrovarsi ugualmente senza mascherine e senza distanze, quando sul più bello dei festeggiamenti si sono ritrovati circondati dalle volanti della polizia. Gli agenti hanno identificato tutti i presenti che si erano appropriati di un gazebo di quelli che in genere in questo periodo servono alla struttura che ospita anche feste per matrimoni o battesimi. Da lì non sono potuti sfuggire alla multa salata. La denuncia è partita da alcuni residenti in zona che avevano visto uno strano via vai di mezzi.